In questo video, presentiamo informazioni incisive sul VAR e sui suoi episodi controversi. Prima di procedere, clicca su Iscriviti e lascia il tuo like al video. Di fronte agli errori recenti e frequenti del VAR, molti attendevano una presa di posizione da parte di Lorenzo Casini. Il presidente della serie A ha ceduto alla pressione, affrontando l'uso del VAR nel calcio italiano, ed ecco il suo discorso. Ricordo che l'anno scorso, quando la serie A preparava un documento di proposte, c'era un punto specifico sul VAR che riguardava la revisione costante del protocollo. Proprio per cercare di lavorare in modo sempre più collaborativo con l'AIA per ridurre le margini di errore che purtroppo possono ancora persistere. Gli arbitri italiani continuano a essere un'eccellenza nel panorama internazionale, ma gli errori fanno parte dell'uomo, sarà una questione di lavorare insieme per ridurre la margine. L'arbitro svolge il lavoro più difficile del mondo, parliamo di momenti e frazioni di secondo, il VAR è uno strumento che si è sempre migliorato nel corso degli anni, può ancora migliorare, come il VAR audio e il VAR aperto, che sono strumenti che aiutano a capire le ragioni di queste scelte e ciò che viene detto. Inoltre, abbiamo discusso della possibilità di una sfida, che ovviamente non risolve, ma sono tutte possibilità di miglioramento. Il discorso di Lorenzo Casini non convince, poiché il VAR è stato introdotto per eliminare tutti gli errori, ma in Italia osserviamo l'opposto, dove il VAR non interviene in azioni chiare. L'episodio del gomito nel match tra Inter e Verona ne ha una evidenza.